L'odore della vernice fresca si sente ancora nell'area, il simbolo della bicicletta è dipinto a terra su una striscia di colore beige. Il nuovo assetto di Via Speranza a Santo Spirito continua a far discutere. La realizzazione di corsie ciclabili con una segnaletica orizzontale ben visibile e l'introduzione di alcuni tratti con limite di velocità a 30 km orari ha sicuramente migliorato la sicurezza complessiva della via, ma permangono alcune criticità sottolineate dai residenti. Su tutte l'imbocco delle rampe per accedere la viabilità extraurbane, l'intersezione con la pista e con il passaggio pedonale, nonostante gli interventi, rappresenta ancora un elemento di discussione, in quello stesso punto in cui, peraltro, perse la vita nel 2019 una ragazzina. Adesso meglio, adesso meglio rispetto a quando la pista non c'era, c'erano le auto che sfrecciavano al massimo, potrebbe essere tenuta male, però è l'inizio quindi, come inizio? Mi perdo un po' perché comunque ho sempre il timore di queste auto che ne devono girare e prendere la curva. Lì hanno messo la pista ciclabile attaccata al muro perimetrale delle ville, quindi quando uno esce dalla villa deve stare attento, si deve guardare a destra e sinistra perché arrivano le bici e poi dopo hanno fatto un marciapiede, sarebbe stato più logico mettere prima i pedoni e poi le bici. Perché io quando esco di casa mi aspetto che sul marciapiede ci siano, guardo, mi aspetto che ci siano i pedoni, non le bici e quindi secondo me hanno fatto una fesseria a metterle così, sarebbero dovute essere invertite, poi i giardini, pezzettino di giardino, non ci sta un albero. Sì, se vogliamo dire, sicuramente c'è stata una maggiore attenzione, adesso vanno tutti più lentamente per via di quello che è successo, per via di questa cosa, però poi fino a se stessa, se non si continua da là piuttosto che da là, oh sì, si sistemano i giardini, sì per carità, noi fa piacere. Il sindaco De Caro intanto nel corso della trasmissione Chiama De Caro condotta da Alessandra Bucci ha spiegato come i lavori non siano ancora terminati, la situazione all'attenzione della ripartizione, l'idea ancora allo studio è quella di installare dei cartelli che segnalino meglio la presenza della corsia.